La dinastia Carrisi continua a stupire il mondo della musica con una nuova e emozionante collaborazione tra madre e figlia. Jasmine Carrisi e Romina Carrisi hanno annunciato ufficialmente di aver unito le forze per la produzione di un brano inedito che promette di catturare l'attenzione degli appassionati di tutto il mondo. La notizia è stata diffusa attraverso i social media, dove entrambe le artiste hanno condiviso immagini dietro le quinte dello studio di registrazione, alimentando l'entusiasmo dei fan. Il singolo, dal titolo Armonia Familiare, è stato descritto come un inno alla connessione speciale tra madre e figlia, una canzone che celebra l'amore, la complicità e la forza della famiglia, Romina Carrisi ha dichiarato, collaborare con Jasmine è un'esperienza unica e speciale. La sua voce è così potente e autentica, e insieme creiamo qualcosa di veramente magico. Jasmine Carrisi ha risposto, è incredibile lavorare al fianco di mia madre. La sua esperienza e la sua passione per la musica sono contagiose, e sono entusiasta di condividere questa canzone con il mondo. Gli appassionati delle Carrisi possono aspettarsi un mix di sonorità moderne e melodiche che riflettono la versatilità e l'unicità delle due artiste. La data di uscita del singolo è attesa con ansia, e i fan non vedono l'ora di immergersi nella magia della musica firmata Carrisi.